I media israeliani già la chiamano la tempesta del decennio e in effetti Gerusalemme una simile nevicata non la vedeva dal 92. In città si sono accumulati tra i 10 e i 15 centimetri di neve, 30 in Galilea nel nord del paese. Con scuole chiuse e trasporti bloccati le autorità hanno invitato i residenti a non spostarsi se non necessario. Anche la maggiore autostrada che collega Gerusalemme a Tel Aviv non è praticabile. Secondo gli esperti l'imbiancata non durerà molto, continuerà a nevicare durante il giorno poi le temperature dovrebbero aumentare. Abbastanza comunque per creare danni. Secondo l'Associazione degli Industriali le perdite economiche ammonterebbero già 60 milioni di euro, calcolando le imprese colpite dall'assenza di personale, di clientela e i problemi di approvvigionamento.